spegnete i microfoni consiglieri buongiorno, dottoressa buongiorno, signora Ventimiglia buongiorno, buongiorno per tutti vi ricordo seduta in videoconferenza quindi in registrazione oggi giorno 10 novembre del 2020 un paio di secondi di vostro silenzio daranno l'assenso al via per essere registrata quest'altra seduta di questo terribile anno la dottoressa dopodiché potrà chiamare l'appello, grazie e i microfoni, chi a chi non serve i microfoni ricordatevi perché si sente tutto quello che di rumore ci sta dove vi trovate prego dottoressa, grazie ancora Cardella presente Guaresi assente Marchese presente Orilia presente Savoca presente Scarlata presente serio presente Scusa presente vi scuso assente Greco presente otto presenti su dieci ore nove e cinquantuno può aprire la seduta buon lavoro presidente grazie grazie a lei dottoressa buon lavoro anche a lei ragazzi nuovamente buongiorno il consigliere Guaresi può cofarellina magari sarà accaduto il consigliere vi scuso se non l'ho visto se si fanno sentire anche con un messaggino poi ovviamente appunteremo immediatamente la la presenza niente che dirvi ragazzi continuano a sentirsi notizie brutte continuiamo a vivere situazioni brutte per quanto riguarda il covid e non solo speriamo di rialzarci presto eh perché ci vuole ci vuole soprattutto per tutti coloro che veramente stanno passando un periodo o brutto non solo per via della salute ma brutto economicamente psicologicamente e quant'altro io spero che veramente questa situazione situazione si risolvi il prima possibile anche se mi sembra difficile che si risolvi presto che si risolva presto il municipio come sapete ancora è chiuso io sino a ieri poi non ho ricevuto sino a stamane non ho ricevuto nessun'altra novità quindi chiedo in primis alla dottoressa se c'era un qualcosina se aveva sentito non lo so il dottore Bucato qualcuno o da parte del decentramento perché diciamo ad oggi si sa quello che si sapeva ieri dico bene dottoressa si praticamente noi non possiamo riaprire se non perviene eh l'autorizzazione non la ossa da parte dell'asp quindi possono anche passare una settimana dieci giorni ehm non è come il caso sospetto questo era un caso accertato per cui la procedura è diversa e c'è la segnalazione all'asp e poi l'asp non so che cosa faccia che faccia il tampone se sinceramente questo non lo so però so che deve dare eh l'autorizzazione alla riapertura quindi finché non arriva questa autorizzazione non possiamo riaprire ok ok perfetto dottoressa finalmente poi ieri sono riuscita a bloccare il sistema delle prenotazioni spero che continui a essere bloccato eh perché per le prenotazioni quelle delle di giornata in giornata che erano errati e quindi di giorno in giorno faremo le disdette per il giorno successivo perché non mi fa di farle tutte se poi riapriamo non è il caso si riapre ma ecco 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 questa è una cosa importante scusi per restare in merito una curiosità ho avuto io una disdette del diciassette sì del diciassette di mio figlio giorno undici in opera del diciassette novembre di che sette novembre si a mia moglie è arrivata la disette del municipio nostro o no? noi le facciamo giornalmente oh ieri abbiamo fatte quelle per oggi come mai le ha arrivate quelle no 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 così perfetto quale si presegna wow non lo capisco questo vabbè poi lo controllate infatti poi si vede meglio appena si perché di solito le fanno proprio il giorno prima per evitare che se l'indomani si apre non la disdicono non viene distetta un paio di giorni prima vabbè nel microfono lo spengo io perché se non li spengo io voi ovviamente ripeto sentiamo tutte le vostre cose ve lo ripeto sempre e sempre lo devo ripetere un'altra cosa ringrazio gli uffici la dottoressa e tutti coloro che siete riusciti ad intervenire in merito al matrimonio che si dovrà celebrare domani e ovviamente pure il dottore brucato a quanto pare non so l'iter da dove è partito ma so come si è concluso il matrimonio che si doveva celebrare ieri io ho già ho ringraziato a priori il matrimonio o comunque si doveva celebrare ieri in vista della chiusura e quindi essere dirottato altrove in tempi record o magari in altri uffici circostituzionali che in questo momento possono avere problemi o che li possono avere da un giorno all'altro si è riusciti ad ottenere l'autorizzazione per celebrare in via padre Francesco Spoto quindi domani l'impiegato del municipio nostro o uno dei nostri impiegati celebrerà la funzione civile in regola e senza sono due i matrimoni presidente sono due i matrimoni quindi ancora oggi posso essere possono essere piccolezze però ancora oggi si è dato perché è un'omissione di attività di ufficio era direttata no no piccolezza nel senso non spostarlo non mandare di data perché dico si poteva nell'emergenza in cui ci troviamo si poteva pure decidere con le stesse persone con gli sposi stessi di rinviare vabbè non si preoccupi rinviare non vi preoccupate rinviare 10 giorni vabbè non si preoccupi invece siamo riusciti ad ottemperare anche a quello sono riuscita ad avere l'autorizzazione da parte del funzionario dello stato civile che è il dottor Incardona che mi ha assicurato che comunque essendo sede comunale potevamo celebrarlo lì e quindi per fortuna è andata bene questa cosa perfettissimo perfettissimo come volevo mi incitenevo a dare questa comunicazione e a ringraziare voi niente è caduta la linea il presidente vicepresidente vicepresidente sta in mano la situazione sì infatti se crea col telefono se riceve una telefonata cade la linea si stacca che è successo su silenzio? eh sarà caduta la linea al presidente carico presidente andiamo avanti la linea non il presidente eh sì andiamo avanti possiamo andare avanti con eh dando la parola ai consiglieri così in eh iniziamo a capire quali altri problemi sono venuti fuori dalla nostra circoscrizione consigliere Tosa prego consigliere Tosa prego sì no è perché col telefono non è facile a volte premere prego passi buongiorno a tutti buongiorno eh niente volevo soltanto ehm dire una 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 cosa riguardo eh le poste di via di via Cirincione l'ex eh poste Cavallaci l'ex poste Cavallaci l'ex poste Cavallaci quella abbandonata sì sì no ehm diciamo che il eh c'è una c'è stata una forte interlocuzione eh tra eh tra il deputato è tornato sì 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 ero schiacciato inadvertitamente è andata la linea e che sono col cellulare continuate e grazie per 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 avermi sostituito subito continuate tranquillo forse consigliere ok stavo dicendo eh c'è stata una una importante mediazione eh del deputato Vardica che è attento a tutta la città in particolare la circoscrizione a far sì che hm diciamo i soldi tra virgolette ehm che sono disponibili per riqualificare il eh il flesso appunto di di via Cavallaci i flessi eh poste eh si perdessero questo perché? Perché ci sono stati rallentamenti nel pronoprogramma per il progetto se il progetto ha subito dei rallentamenti per via del covid per via delle alcune varianti che hanno si dovevano fare eh però si rischiava si rischia eh se così fosse di non arrivare al tempo utile a presentare il progetto e quindi entro giugno duemilaventuno il eh il nostro deputato a Roma ehm ha ha fatto un'interrogazione eh al Parlamento eh per affinché si provocasse questa data quindi da da giugno duemilaventuno siamo passati a a giugno duemilaventidue eh e quindi eh ha dato notizia al sindaco di Palermo di questo importante evento e in qualche modo ha esottato anche il sindaco a ehm a scrivere eh sul reperimento di altri fondi che eh il questo il deputato varica attentamente ha ha visto che erano disponibili per definire tutto il flesso perché? Perché i i una parte di soldi serviva per fare un polo didattico ma mancavano quelli della palestra una palestra che potesse servire sia alla 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 scuola sia all'intero quartiere quindi in qualche modo stanno reperendo anche questi soldi e e quindi eh si dovrebbe definire l'iter e si spera sempre si spera sempre che tutto questo che tutto questo buon lavoro finora che sta andando avanti eh si posti a fine a compimento perché è veramente per la nostra circoscrizione eh per il nostro territorio sarebbe eh una una bella notizia di di qualificazione di 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 quella zona quindi questo ci tenevo a dirlo ehm come 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 per diciamo il il fondi dell'ostarone eh del della di qualificazione del quartiere dell'ostarone come questi fondi io mi auguro che che arriva a compimento perché è bello sì l'interessamento però ci vuole una forza eh di volontà a tutti i livelli perché sappiamo tutti che non è che se il governo lo stato o chi eh cioè possa trovare i fondi e se le altre amministrazioni non siano così attenti a definire i progetti e a ultimare i lavori eh le le cose poi si si bloccano in qualche modo si bloccano quindi io spero che sia il momento giusto per questa situazione quindi ci tenevo ad informare tutti voi e quindi eh questo speriamo eh speriamo bene per il nostro territorio grazie presidente grazie contiene tutta grazie vicepresidente mi vedo anche perché io quando poi esco non vedo se ci sono iscritti a parlare precedente va bene non vedo sì dopo Pasquala Tusta non c'è più nessuno a parlare ma se qualcuno non può essere la parola a me perché non posso prendere la parola direttamente presidente poi dopo il consigliere vorrei dire qualcosa grazie consiglieri grazie presidente grazie uffici mi sembra giusto e doveroso ecco portare anche a conoscenza il 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 consiglio per quanto riguarda questi fondi eh l'attenzione massima perché insieme al consigliere Marchese anche se lo facciamo noi come dire e come tutti quelli che scendono in campo e portano i problemi della circostruzione avanti dico la guardia non l'abbiamo ma abbassata e con le nostre sinergie i nostri i nostri politici ecco siamo attenti per cercare di portare avanti il prima possibile cercare di far arrivare il prima possibile questi fondi perché non perché dobbiamo dimostrare prima ai cittadini che non si fa solo passarella almeno noi non abbiamo fatto mai passarella ma quando scendiamo in campo e portare a coscienza i vari problemi che ci sono e da quei problemi finalmente nascono i fondi per la seconda circoscrizione dico ecco noi non ci siamo fermati allora non ci fermeremo ad ora e poi sarà il consigliere Marchese ecco a dire quello che si sta facendo per quanto riguarda questi soldi e soldi progetti che si andranno a fare per lo sparone chiudo questa parentesi ci tremo a dirla perché dico siamo tutti attenti ringrazio il consigliere mi ha preceduto siamo molto attenti è giusto allora che ogni cosa venga portata a coscienza del del consiglio così da fare vedere far ascoltare a tutti quelli che ci seguono quello che fanno i consiglieri dopo che viene chiusa la seduta qualcuno pensa male come dire hanno fatto quella mezz'ora di consiglio come come dire che ci vorrebbero redarguire ma io dico sempre che qui nel consiglio siamo tutti in strada e negli uffici a portare avanti i problemi che attanagliano questa circostituzione presente ieri ieri ho fatto ho cercato tramite una nota di fare redarguire enel e nelle distribuzione che da tre quattro mesi sta posando della tubazione su tutta l'intera circostituzione presidente lasciando sconquessate pericolose le strade ieri sono stato ieri pomeriggio sono stati con diversi cittadini di diverse zone ho fatto delle foto ho predisposto una nota immediata dove chiedo la sistemazione delle strade subito la pulizia presidente ho chiesto di andare a spazzare tutte queste strade lasciate in uno stato proprio pericoloso per tutti i detriti la polvere e le pietre che sono state lasciate e diversi citti diversi ragazzi con i motori qualcuno è caduto mi mi raccontavano ieri fortunatamente senza far sinale però lui non si è fatto male però di quel motoretto è strisciato quindi immediatamente ho predisposto una nota soprattutto per il controllo presidente perché tutte queste persone che lavorano dietro ordinanza sindacale perché dico per ogni scavo che viene seguito in sulla sede stradale e c'è sempre dietro un ordinanza però presidente io ho chiesto ieri al sindaco che bisogna seguire questi queste ditte che lavorano a parte i danni che fanno perché sappiamo benissimo che sotto il manto stradale ci sono una miriade di sottoservizi infatti e nel la set in due settimane fa ha tranciato una tubazione centrale anche dall'amap lasciando diversi quartieri a secco fortunatamente grazie all'esperienza e all'amore che mettono i dipendenti e all'amap nel giro di poche ore è stato ecco ho riparato il danno così da poter ridare tranquillità a tutti i residenti diversi residenti di diverse zone che per almeno mezza giornata erano rimaste senza acqua mi auguro presidente che la nota inviata ieri stesso possano dare seguito perché ripeto non si possono lasciare strada sconquassate con degli avvallamenti pericolosi presidente dico io il tablet davanti non posso fare vedere le foto ci sono degli avvallamenti con 3 4 cm di differenza che qualche motore la sera potrebbe tranquillamente per dell'equilibrio e mi auguro che questo non possa succedere perché ho sottolineato in grassetto evidenziato o anche evidenziato si intervenga immediatamente prima che ci scappi il morto grazie presidente consigliere quaresi grazie a lei per averci informato e per l'attenzione al territorio prego consigliere marchesi grazie presidente a me fa piacere che un po tutti nel bene nel male si combatte per poter riportare alla allo splendore questa circoscrizione ma a me purtroppo certe volte non è così facile nella risoluzione del problema vedasi finalmente l'ex centro sociale finalmente dico già da una settimana sono finiti i lavori di carotaggio dei pilastri per vedere se lo stabile di quello che è rimasto in piedi possa essere riqualificato o meno deve essere buttato giù a quanto sembra gli ingegneri che mi hanno informato che la stabilità è molto solida per cui sicuramente si andrà una a una ristrutturazione di questi benedetti locali e consegnati ai cittadini e poi si sta lavorando per quanto concerne questi benedetti soldi che andranno a riqualificare l'intero quartiere sperone mai mai qua c'è una nota dolente lascio queste ne prendo un'altra mancano i controlli per quanto concerne l'indiscriminato abbandono degli ingombranti mi sono fatto dei giri stamattina perché mi hanno chiamato in alcune zone ed è mortificante dico mortificante perché rap come sempre sosteniamo ed è la verità non perché non si può dire una cosa per un'altra cittadina mantiene il proprio impegno ma quello che non lo mantengono sono gli incivili che quotidianamente mortificano cittadini oneste e dignitose e mi creda ce n'è tantissima e sporcano infischiandosene di tutti quanti Presidente le volevo dire un'altra cosa sono ben felicissimo di annunciarle che finalmente sono partiti i lavori di qualificazione di un lotto di case popolari nel quartiere Sperone dove andranno a fare le scale e quant'altro che si sappia da facciare consigliere marchese scusi se ne interrompo mi da conferma pure in alcuni punti che ho saputo che addirittura faranno pure le facciate il consigliere marchese di questo poi lo informerà sicuramente con molto orgoglio e molto Anzi la ringrazio perché so che lei è al corrente e domani sarò in giro in alcune scale per visionare alcune problematiche che si sono trovate e che si sono viste durante vabbè dico comunque niente di importante Dico si sta lavorando e si sta lavorando all'aggremente dico che poi non venga nessuno all'ultimo minuto e venga a dire perché ci sono note contro note con numeri di protocollo e i cittadini non c'entra niente lei presidente mi perdoni ma è giusto che io lo faccio sapere magari domani mattina arriverà qualcuno abbiamo fatto dico qua ci sono note protocollate e quant'altro dico questo per onor di conota per dire no per dire presidente che non è così facile portare avanti una una questione di qualsiasi genere si parla stamattina mi hanno chiamato da via spoto dietro la delegazione perché si vede che qualcuno ha ditenuto opportuno tagliare dei rami non si sa chi è quindi ora dovrò chiamare le giardine per vedere da farsi dico ecco perché dico i controlli se non ci sono siamo sempre in alto mare quindi faccio un plauso al consigliere guarese a lei presidente al consiglio che ripeto quotidianamente portiamo avanti le richieste dei cittadini però ahimè lo spazzamento lo spazzamento quello è del tutto latitante e quindi non va bene così per quanto concerne egregio presidente la informo pure che stamattina stiamo facendo aggiustare pure la luce che manca di viasperone perché c'era un vasto va bene io ho finito il mio intervento presidente che entro in un ufficio perché mi aspettano buona giornata presidente sono in religioso silenzio sentite ora mi ha sentito presidente sì 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 grazie consigliere marchese grazie a lei presidente grazie a tutti allora andiamo avanti chi c'era scritto a parlare chi vuole intervenire se non c'è più nessuno vorrei dire vorrei dire una cosa io riguardo cambio direttamente argomento e parlo dei ragazzi di reddito di cittadinanza e io allora si stavamo chiesto qua in videoconferenza l'invito dell'assessore mattina perché vogliamo alcune delucidazione riguardo a come ci si sta muovendo in consiglio cioè giunte in consiglio comunale per far partire questi benedetti puc dove avremo un vantaggio tutta la città compreso la nostra circoscrizione di avere delle maestranze delle braccia in più per riqualificare finalmente alcuni siti eh del verde alcune eh coste e quant'altro perché ha elencato un po' di cose ora eh stamattina mi hanno mandato un eh un video con l'assessore mattina dove spiega benissimo perfettamente tutto quello che come si sta muovendo la la l'amministrazione comunale era un video penso che sia una riunione di commissione oppure eh chiamato lì in consiglio non so che cosa sia ma perché ascolto che parlava la consigliere comuna la mail perché l'ho riconosciuto dalla voce e anche mattina per cui eh mi hanno mandato questo video sti ragazzi dicendomi eh che hai visto non eh non c'è niente non eh queste cose ma nessuno ha mai detto che ci saranno posti di lavoro nessuno ha mai detto che a sti ragazzi che si apre una fase nuova di lavori socialmente utili si apre una fase nuova di precariato io lo voglio ribadire lo voglio confermare perché non non ci sono dei delle confusione oppure delle delle ombre su queste cose perché veramente non bisogna scherzare o giocare con eh come si suol dire con eh i problemi che ci sono nelle famiglie e di che sono queste persone che hanno di bisogno veramente di lavorare per cui penso che la sessione mattina avendo ascoltato questo intervento ha detto tutto quello che noi abbiamo ribadito sempre e da tempo niente di più eh tutto quello che noi abbiamo ribadito sempre in consiglio pure quando gli altri ci attaccavano che stavamo prendendo in giro qualcuno o stavano illudendo qualcuno e ahimè purtroppo sono venute tutte cose alla luce che nessuno nessuno ha preso in giro nessuno eh io il video ce l'ho se volete ve lo manda uno a uno perché a questo punto non mi interessa più che venga la sessione mattina in aula perché come si è spiegato eh in questa riunione di commissione per me ehm un argomento che è stato esaustivo cioè che abbiamo capito quello che sta stanno facendo al comune e va bene abbiamo è quello che noi abbiamo portato ai ragazzi che conosciamo e che si edoperano qua volontariamente eh per riqualificare questa benedetta circoscrizione abbiamo riportato eh parola per parola quello che sta succedendo e penso che finalmente fughiamo ogni dubbio che questi ragazzi siano sfruttati che questi ragazzi siano presi in giro che questi ragazzi abbiano eh delle idee così eh di da che noi abbiamo inculcato queste idee perché assolutamente non è vero come avete visto tutto e tutto è documentato eh finalmente si chiude questa cosa che ci tenevo tanto e mi tenevo tanto perché conosco parecchie di queste persone li conosco da ragazzini li conosciamo da bambini sappiamo le loro i loro problemi le loro sofferenze e io spero che queste cose bene durino per tutto il tempo della della del del reddito di cittadinanza eh diano proroga o diano proroga a me non interessa a me interessa semplicemente che finalmente mettiamo un po' di dignità addosso a questi ragazzi dove vanno a stipolare un'assicurazione dove vanno a dargli dei mezzi per poter lavorare e dove ci sarà tutte cose regolari e lineare per un un servizio di volontariato che andranno a dare questi ragazzi finalmente voglio chiudere la parentesi rdc con questa con questo mio intervento poi dopodichè presidente volevo aprire un altro un pochettino antipatico ne volevo aprire un altro un pochettino antipatico dove sono state prese alcuni spunti dai miei colleghi poco fa e riguardo sempre il discorso degli ingombranti io non so e non voglio perché so il lavoro che fa spina so la persona eh che il signor spina e so come lavoro in un modo efficiente però so pure che abbiamo fatto richiesta e abbiamo fatto note abbiamo fatto telefonate abbiamo fatto cortesemente ancora c'è da due mesi ancora tutti gli ingombranti sia di via di fondo di livello che è una vergogna andarla a guardare sia di piazzetta bazzano dove questi ragazzi si sono prodigati a pulirla tutta a rassettarla tutta eh a togliere la qualsiasi a dividere tutti i rifiuti e metterli eh e metterli sistemati uno sopra l'altro e sia in via Giacomo Lagna che sa ancora non voglio parlare col su dei mille voglio allargarmi ci sono tante però a pezzi a pezzi sto dicendo che queste questi tre siti sono stati attenzionati già da un bel po' e ancora ad oggi io vedo che non sono stati eh diciamo non sono stati interventi non ce ne sono stati per cui io ora rendo il consiglio richiamerò il signor Spina perché voglio capire cosa sta succedendo e qual è il problema serio se hanno bisogno di operai se c'è problema di carenza di eh macchinari che vanno a ritirare questa cosa lo dobbiamo capire perché non può essere che rimangono qui eh due tre quattro cinque mesi sempre e vanno a buttare sempre cose su sul col perché oramai ci sono montagne di rifiuti di qualsiasi tipi cioè risulta rifiuti speciali eh ingombranti ci sono qualsiasi spazzatura sacchetti ce ne sono di tutto e di più e questa montagna si allargerà sempre di più perché chiunque passa si sente autorizzato vedendo che c'è uno stato del genere a buttare qualsiasi tipo di rifiuto basta presidente poi altre cose mi riservo di parlarne in futuro grazie grazie vicepresidente grazie a lei concordo sulla questione ingombrante sta diventando davvero tragica è vero che il settore diciamo ha cominciato ad accelerare nuovamente da un paio di giorni e ci sono infiniti punti non solo nella circoscrizione ma in tutta la città che devono essere eh ripuliti eh intanto non è possibile avere due tre mesi una un un ambito ingombrato non è possibile non speriamo che non lo so si trovi del personale in più speriamo che gli incivili tornino ad essere persone normali fatto sta che questo il problema dei rifiuti ingombranti sta diventando forse uno dei più seri per tutta la città va bene andiamo a cercare il consigliere uguale si che voleva ridire qualcosina grazie presidente si parla per le volevo eh e corrisponde un attimino al pensiero al giusto pensiero che ha esternato il vicepresidente dico perché mi sono accorto mi hanno raccontato mi chiamano anche a me eh ragazzi che conosco eh dal reti di cittadinanza che dal primo giorno sono scesi in campo a portare ecco il loro ecco come dire volevo portare a conoscenza l'amministrazione che non volevano regalato niente eh che sono scesi in strada a cercare di essere d'aiuto eh d'aiuto sperando che qualcuno si potesse accogliere io faccio i complimenti al vicepresidente per come ha portato avanti fin dall'inizio a spese proprie ecco eh questi ragazzi che si sono messi in gioco è stato il gruppo lega al consiglio non sono stato io a portarlo avanti guardate scusami ti voglio ti voglio perché non è giusto direi vicepresidente vice sindaco vicepresidente mi perdoni mi faccia mi faccia concludere dico io per quello che vedo ho visto dico mi sembrava giusto poi sarà lei a eh ad allargare i ringraziamenti dico ecco riprende il discorso mi 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 permetta se mi scusi se lo scusa prego quindi no no perché poi magari per il passaggio che stavo facendo quindi fin dal primo momento siete stati voi presenti con altri consiglieri eh ma non perché avevato un fine ma perché vi siete resi conto che c'era bisogno di queste maestranze che scendessero in seconda circoscrizione e potere ecco spazzare le strade eh abbiamo abbiamo visto ciò che hanno fatto voi siete stati gli artefici ad aver comprato eh insieme a avete girato avete chiesto aiuto a degli sponsor per aver acquistato eh i materiali eh di coso quanto vi è costato o giornalmente spendere eh soldi per i sacchetti per la per le scope per tutto quello che necessitava per poter far lavorare al meglio questi questi ragazzi dico adesso esterno la mia rabbia proprio o di ciò che ho sentito in questi giorni ecco dal momento in cui voi avete vinto una abbiamo vinto una battaglia ma voi in primis avete vinto una battaglia perché ci avete creduto dall'inizio dico io sono sempre stato scettico e la mia scetticità alla fine come come presente niente la sentivamo un po male comunque no non era meglio la mia scetticità è stato un attimo che sentivamo male quindi continuare la mia scetticità era solo quella di andare a incontrare sciacallaggio politico presa in giro verso questi ragazzi zizzanie ogni giorno eh presidente questo purtroppo va a danneggiare qualora ecco si volesse portare i domani avanti finalmente dico questi ragazzi ecco dagli la possibilità di lavorare con quella tranquillità eh perché e dico finalmente è mh questo decisione è nato proprio per questo motivo potrei fare lavorare nel nei propri eh dentro il comune dentro le associazioni cercare di essere di renderli ecco eh come dire presente rendersi utili ma ma non magari seguiti seguiti in questa maniera si sapeva fin dall'inizio che non ci sarebbe stato lavoro futuro per questi ragazzi dico io mi auguro che le cose possono cambiare e possa nascere ecco il lavoro per questi ragazzi futuri che alla fine dico non parliamo di uno due parliamo di circa ecco un dodici o ventimila su qua parliamo eh in Sicilia o a Palermo non so se sono Palermo i numeri sono dodicimila dico ecco ripeto mi fermo io mi dispiace mi dispiace ecco sentire lo sciacallaggio che c'è le prese in giro che fanno altri e quindi dico la mia solidarietà a al vicepresidente che porta con amore e passione ecco la voglia la ecco inculca questa voglia a questi ragazzi di continuare eh e poi sono liberi di 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 fare quello che vogliono sono liberi di andare con chi vogliono l'importante eh che sappiano che qua in seconda circoscrizione chi li ha seguiti fino ad oggi l'ha fatto solo per amore del territorio altri tra virgolette eh solo sciacallaggio grazie presidente grazie vice presidente. Grazie vice Gracias grazie. Va bene ragazze allora eh 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 Ma eravamo così aperto se sacro del di quello che ha detto il Presidente il vicepresidente è il il Consiglio di Guaresi, il fatto che l'assunzione mattina non l'abbia detto e non sia venuto da noi, ma comunque e ovunque va bene, anche in Commissione terza, finalmente si sono delineati al quale situazione che sapevamo, per il modo di non fare illusione tra le persone, perché purtroppo, caro Presidente, deve sapere che la gente, le persone, voi non voi, ci sperano al fatto che io posso lavorare col Comune e allora posso avere un futuro, ma non è così. Infatti il discorso è chiaro fin dal decreto ministeriale che è uscito, sono i centri per l'impiego che possono eventualmente trovare il lavoro. Questo chiarimento è magari, come diceva il Vice Presidente, è stata un'opportunità in modo da far capire a questi ragazzi che col Comune avete poche speranze, potete soltanto dare decoro alla città e per questo noi ne saremmo grati sempre, perché veramente la loro forza in un'amministrazione che è carente è importantissimo. Però devono prendere coscienza, si spera che veramente tutto il bene per queste queste persone, perché sono volonterose, hanno voglia di lavorare, si vogliono mettere in gioco, spero che ci sia qualcosa in futuro per loro attraverso i centri per l'impiego, che si possa dare questa apertura. Io da questo video che ho avuto pure io e l'ho girato subito a tutti i contatti RDC che avevo sulla mia rubrica e ho accurato anche altre cose, che è l'assessore Martina, a quanto pare per i PUC, vuole fare una riprogrammazione ogni sei mesi, quindi partono dei ragazzi, si fanno sei mesi e non diciotto mesi in modo da alternarli e quindi non esserci un'illusione che dopo diciotto mesi di lavoro, di egregio lavoro per l'amministrazione, possono in qualche modo essere buttati fuori, quindi questa è stata un'idea forse molto ardente presa dall'assessore in modo da non illudere le persone, quindi mi auguro tutto il bene per queste persone e è opportuno fare chiarezza proprio in questo momento, quindi vi ringrazio a tutti e speriamo bene. Presidente se posso? Grazie. Buongiorno. Io un attimino vicepresidente continuo la seduta, io dico ringrazio prima del consigliere Cardella, un attimo così io devo chiudere. Il consigliere Scarlata ha parlato. Sì 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 sì, il consigliere Scarlata. Ringrazio ovviamente il vicepresidente, il consigliere Scarlata, Cardella e in primis ovviamente tutto il consiglio perché fin dal primo giorno hanno... Ho avuto il piacere di conoscere dei nuovi ragazzi, della gente veramente perbene che pur ricevendo il reddito di cittadinanza voleva, ha espresso con tanta volontà e in tanto amore un lavoro di volontariato, chi più chi meno, soprattutto nel pulire le nostre strade e ancora ad oggi lo stanno facendo, vi assicuro che è così, lo potete notare con i nostri occhi e lo fanno sempre col cuore, in posti anche dove, ambiti dove magari non è molto importante, magari non è molto importante per loro, ma è importante per tutti noi, è importante per noi, è importante per dare un segnale all'amministrazione e che Dio veramente li possa aiutare, come diceva ora per ultimo il consigliere Tusa, a prescindere dalla questione reddito, a prescindere dalla questione PUC, veramente che li possa aiutare perché è gente che in quel che fa mette veramente l'anima ed è veramente da apprezzare, su quello sono orgoglioso e felice veramente perché ho conosciuto dei nuovi ragazzi con cui adesso ho un ottimo rapporto, grazie anche a voi consiglieri, grazie a ogni singolo elemento della nostra circoscrizione, dico il consiglio è servito anche a quello e servirà anche a quello, anche a questo, servirà a tenerci uniti, come quando ho conosciuto voi singolarmente e con ognuno di voi ho instaurato un rapporto più o meno, anzi senza meno ottimo con tutti, è capitato pure con i giovani, quindi la cosa che auguro al di là di come andrà a finire è che Dio veramente li possa aiutare, loro e le famiglie, come in questo momento deve aiutare tu tutti noi per la situazione che stiamo vivendo e grazie veramente a chi più o chi meno, comunque a chi si è interessato in primis nella nostra circoscrizione perché voglio ricordare a chi ci ascolta, la nostra circoscrizione è stata quella che è partita forse per prima, tranne quell'intervento che si è fatto in cortile del pallone, è stata per prima, è stata la circoscrizione che ha visto scendere in campo più ragazzi rispetto alle altre e ancora ad oggi ragazzi che svolgono un lavoro di volontariato e quindi che ripeto che gli vada bene il futuro lavorativo al di là della questione del reddito e spero che quello che si è detto un paio di giorni fa di chi ovviamente si è impegnato sin dal primo giorno non venga dirottato in situazioni molto lontane comunque almeno di ambito per far sì che si possa organizzare un qualcosa anche di quella che stavano facendo come per esempio la pulizia della costa sud sarebbe un risultatone avere un gruppo di ragazzi che potrebbe continuare, che possa continuare a pulire la costa visto come visto il risultato con loro e il risultato senza di loro. Grazie, mi scuso se ho parlato prima del consigliere Cardella ma per quei problemi istituzionali, lavorativi e quant'altro devo staccare, devo staccare e correre dove che devo, ci sentiamo dopo, vicepresidente grazie sempre, grazie a tutti voi, dottoressi, signora ventimiche, consigliere Cardellato che sicuramente parlerà positivamente anche di questo discorso e niente, roba che dirvi, ci riaggiorniamo poi più tardi telefonicamente, grazie sempre. Grazie presidente, andiamo avanti, consigliere Scarlata, prego, prego, prego. Ok, buongiorno a tutti, diciamo che gli interventi fatti dai miei colleghi che mi hanno preceduto sono stati come sempre precisi e che riguardano le problematiche della nostra circoscrizione, va bene che i progetti dell'Osterone stanno andando avanti, quindi la cosa ci fa enormemente felici da questo punto di vista. chiaro, lo spazzamento è una nota dolente e anche la raccolta purtroppo degli ingombranti anche esso è una nota dolente. Fortunatamente per quanto riguarda lo spazzamento, diciamo che una parte in alcune zone vengono, come tutti sappiamo e come lo vediamo, vengono effettuati da questi ragazzi che sono i percettori del regno di cittadinanza. Come ha detto e ringrazio il consigliere Guaresi, che diciamo non che si è ritraduto, che ha messo l'accento sul fatto che alcuni consiglieri, come il consigliere Savo, il consigliere Gardella ed io, qualche altro forse però non mi ricordo, sin dal primo giorno abbiamo creduto in questi ragazzi, li abbiamo armati, muniti, formati, gli abbiamo dato in questo anno e mezzo un supporto notevole anche a livello di avere una vicinanza istituzionale, ma senza mai illudere nessuno, perché non ci possiamo nessuno di noi illudere questi ragazzi per un qualcosa di grande di cui meriterebbero tutti, di cui meritano tutti i figli di famiglia, i padri di famiglia, cioè un lavoro, una tranquillità economica, una sicurezza e chi lavora lo sa, di portare il paracasa in maniera tranquilla a ciò che significa. Siamo stati attaccati, voi lo sapete da diversi consiglieri anche comunali, siamo stati tacciati di prenderli in giro, di illuderli e quant'altro. Noi ne abbiamo sempre parlato in maniera chiara, tra altre cose voi sapete benissimo che quando c'è stato e ci siamo organizzati, ma perché ce l'hanno chiesto e lo hanno chiesto in primis al vicepresidente Savoca quello che potevano fare. Alcuni di essi hanno detto bene prendiamo questo, invece di stare a casa cosa possiamo fare? Quindi è venuta questa idea, ha detto bene il consigliere Guaresi, ci siamo andati a cercare un po' gli sponsor che potessero darci un aiuto economico, abbiamo messo anche del nostro chiaramente, più del nostro, però mai senza illudere nessuno, mai, perché non si può scherzare con una platea in questa misura. Gli abbiamo dato sempre un supporto informativo nelle cose come si sarebbero svolte e così è come noi abbiamo semplicemente detto, si sono svolte così come abbiamo previsto. Bene, oggi si partono i pucchi, abbiamo visto il video, lo sappiamo, abbiamo chiesto noi con mattina diversi incontri, ci siamo stati, lui prevede di farlo ogni sei mesi, bene, giusto ha detto il consigliere, tu sai che da un lato butta acqua sul fuoco, giustamente, dicendo che sono misure, transitore, sei mesi per sei mesi, l'idea dell'assessore per fare una rotazione su tutti, dall'altro mette l'enguo sul fuoco e dire speriamo che li prendano a tutti, insomma che li assumano, licenze per l'impiego e quant'altro. L'altro è certo e questo è lo scopo e speriamo che loro possano essere in altro, che non è per forza deve essere un ente pubblico, che possano lo scopo, la misura di questa manovra, lo scopo era quello del lavoro, è quello del lavoro, quindi gli dai una sicurezza. Quindi come ho detto anche ieri mi sembra di averlo ribadito, se non ricordo male, se ci dovessero essere e noi potessimo spenderci personalmente nei confronti di tutti, io mi spenderei solamente per coloro che sono scesi sempre in maniera volontaria, in maniera volontaria, dal primo giorno, senza se e senza ma, mi spenderei per questi ragazzi per farli rimanere in zona, se ci fosse la possibilità che loro potessero essere inseriti. Con loro mi spenderei tantissimo, da questo punto di vista. Facendo una gradatoria di merito, lancio all'assessore mattina questa idea, una gradatoria di merito. La gradatoria di merito significa tutti coloro che sono scesi in maniera volontaria in tutta la città, senza chiedere nulla, ma mettendo la loro dignità personale di percettori re di cittadinanza, che grazie a loro hanno portato avanti anche la loro figura di percettori re di cittadinanza nei confronti della popolazione, come sappiamo, come si dice un chirurio uno, è detto, da quella popolazione che non credeva e vedeva questi ragazzi come dire, dei parassiti, tra virgolette. Ecco, grazie a loro molta di questa gente ha cambiato idea, molta gente di cui io mi confronto, come voi vi confrontate, si effettivamente scendono, lavorano, puliscono e grazie a loro tutti i percettori del reddito di cittadinanza dovrebbero dirgli un grazie immenso a questi ragazzi che scendono quasi ogni mattina in maniera volontaria. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Scarlata, andiamo avanti, io non so se voi avete concluso con l'intervento e se qualcun altro vuole dire qualcosa, io sono pronto, se no passiamo subito agli atti ispettivi. Allora, nominiamo gli scrutatori, Guaresi, Scarlata e Aurilia. Allora, diamo lettura al verbale del consigliere Tusa, verbale del 25 se non sbaglio, o 24? Allora, o anche quello del 24? 24, sì, 24, grazie. Allora, verbale seduta consigliere sulla circoscrizione al 24 settembre 2020. L'anno 2020, il giorno del 24 mese di settembre, si è riunito in modalità videoconferenza, incontro convencionalmente inteso presso la poca sede in via San Ciro numero 15, il consiglio è la seconda circoscrizione. Giusta convocazione a norma di regolamento del presente signor Greco Mario, protocollo 738547 del 29-7-2020, per trattare gli argomenti di cui è allegato all'ordine del giorno. La seduta del vicepresidente Savoca, Salvatore, il quale alle ore 9 e 41 dispone l'appello e sono presenti i consiglieri Cardella, Marchese, Scarlata, Serio, Tusa, mentre si sono presenti i consiglieri Guaresi, Odilia, Viscuso ed il presidente Greco. Il presidente Savoca ha riferito alla verità del colmo strutturale, quindi il numero legale di che era aperto alla seduta. Funge da segretario il signor Davide Martines, sottore amministrativo, mentre erige il verbale il signor Dragotto Giovanni, colobo dell'amministrativo. A seguire il presidente Savoca propone come scusatore il consigliere Cardella, Serio, Tusa, la cui nomina viene approvata dal consiglio. Alle ore 9 e 42 entra il consigliere Viscuso, mentre il presidente Savoca, su indicazione del consigliere Marchese, chiede l'inversione dell'ordine del giorno che viene approvata e seguita dal consiglio. Alle ore 9 e 43 entra il consigliere Odilia e a seguire avviene il periodo del verbale della seduta del consiglio del 24-7-2020, di cui il consigliere Tusa inizia la lettura, durante la quale alle 9 e 45 entra il consigliere Guaresi. Il verbale superindicato viene eletto ed approvato all'unità dei consigliari presenti per appello nominale. Alle ore 9 e 53 risulta assente solo il presidente greco. A seguire avviene il prelievo della mozione di protocollo numero 8-09-066 dell'8-09-2020, avendo il progetto di installazione semaforo pedonale a chiamata in via Ponte di Mare, a firma del consigliere Tusa, il quale passa alla reativa presentazione e discussione. La mozione antiretta viene approvata all'unità dei consigliari presenti per appello nominale alle ore 10-09 risulta assente solo il presidente greco. Alle ore 10-10 esce il consigliere Marchese. Il consigliere Tusa prende la parola per riferire che nella seduta di domani, in cui saranno affrontate le problematiche in eventi la toponomastica del territorio, necessita truttare l'incontro antidetto con il nuovo personale del settore comunale competente per mettere in evidenza le posti precarietà presenti in circoscrizione e finalmente risolverle. Il consigliere Guaresi ha stato proposito prendere la parola per riferire che nell'incontro di domani auspita di avere davanti delle persone si nuove a servizio problematica, ma con la voglia di lavorare dopo un periodo di assenza totale fisica e mentale verso vecchie problematiche che potranno essere risolte dal precedente responsabile architetto Salamone, il quale ha palesato continuamente una volontà negativa. Adesso nella seduta di domani si spera possa verificarsi il cambiamento voluto da sottoscritto e da questo consiglio. A seguire il presidente Savo che riprende e ribadisce la propria lamentela espressa nella seduta di consiglio di ieri riguardo all'indifferenza e al disinteresse totale all'amministrazione comunale verso i problemi dei cittadini in merito alla problematica del verde in circoscrizione, in quanto i diretti invitati, quindi organi di uffici di competenza, non hanno ancora risposto per far conoscere le loro partecipazioni in consiglio di circoscrizione che la segreteria di presidenza ha chiesto circa un mese fa. Alle ore 10 e 14 il presente Savo che chiude la seduta. Grazie consigliere Tusa. Passiamo subito all'approvazione del verbale, quando la dottoressa vuole poi può chiamare l'appello nominale. Ok, vado. Cardella? Favorevole. Guaresi? Favorevole. Marchese? Non è collegato. Assente. Orilia? Favorevole. Savo? Favorevole. Carlata? Eugenio, dimmi. Favorevole. No, ho una domanda per balle. Vabbè, c'è una sola dall'alto. Ciao, ciao. Serio? Favorevole. Scusa? Favorevole, favorevole. Scuso? Favorevole. Il presente greco assente, quindi approvata l'unanimità dei presenti ore 10 e 42, assenti greco e marchese. Grazie, grazie, dottoressa. Facciamo pure l'altro, così tu sa, vuoi o lo leggo io? Come vuoi? Forza. Io sono in linea, presidente. Dai, lo leggo io. Come vuoi. Per balla del 25 settembre 2020, l'anno 2020, il giorno 25 del mese di settembre, il consiglio della seconda circostruzione sia l'unità in modalità videoconferenza, radiante collocamento telematica a distanza. Giusta convocazione dal presidente greco con protocollo numero 73-85-47 del 29-7-2020 per trattare gli argomenti di cui è legato all'ordine del giorno. Presidente della seduta è il presidente greco, il quale alle ore 9.51 chiama l'appello. Risultano presenti i seguenti consiglieri, Ricardella, Marchese, Guaresi, Orilia, Savoca, Scarlata, Serio, Tusa, Viscuso e il presidente greco. Assistito dal segretario istruttore amministrativo signor Davide Martinez, redigio e verbale del collaboratore professionale amministrativo signora Anna Maria Ventimiglia. Verificando la verità del colmo istruttore, il presidente Savoca dichiara aperta la seduta. Scusate però c'è una cosa, il presidente è il presidente greco, dopodiché dichiaro la seduta aperta io. O il greco esce prima o poi c'è di nuovo il presidente greco che ringrazia gli uffici. Per cui qua c'è una cosa che dovete togliere il presidente Savoca e mettere il presidente greco. Sì, sicuramente è stato un copia in colla sbagliato. Va bene, bisogna togliere il presidente Savoca. Allora, il presidente greco ringrazia gli uffici e l'assistica che permettono ai consiglieri di poter svolgere le sedute in videoconferenza. Ringrazio il dottor Domenico Carona della toponomastica presente in videoconferenza. Fa una breve premessa su quanto verrà discusso durante la seduta e da subito la parola ai consiglieri per trattare gli argomenti inerenti alla toponomastica. Il consigliere Guaresi ringrazia il dottor Verone per la sua presenza. Ricorda che nella passata legislatura il consiglio aveva invitato il dottor Salamone evidenziando le carenze legate alla cartolonistica sul nostro territorio. Ma non avendo ricevuto nessuna risposta da parte della toponomastica, lo stesso consigliere di tasca sua aveva acquistato e installato tre cartelli mancanti poiché i cittadini che risiedevano in quelle vie non ricevevano neanche le bollette. Il consigliere Tusa saluta il dottore Verona e anche lui fa presente che sul nostro territorio vi sono diverse criticità legate ai toponomi. In quanto in molti cartelli le vie sono illegibili, i problemi causati dall'assenza della cartolonistica non sono solo quelli del mancato regapito della posta, ma anche alle difficoltà di un eventuale intervento di soccorso, pertanto spera che queste criticità si possano risolvere insieme. Alle ore 9.59 la esce della videoconferenza è il consigliere Orilia. Il dottor Verona saluta e ringrazia il consiglio per l'invito. Comunica che da qualche settimana si occupa del settore toponomastica in vista di questa riunione, ha cercato tutti gli incarcamenti riguardanti la seconda circoscrizione. Ha individuato tre atti ispettivi che riguardano l'elegibilità della cartolonistica di Fondola Rosa e l'intitolazione di una strada che, per non dimenticare, è presentata dal consigliere Guarese. Accoglie in pieno la richiesta del consigliere Tusa che chiede di risolvere queste criticità in sinergia. Pertanto chiedo al consiglio di inviare un elenco delle priorità in modo che si possa provvedere subito. Per quanto riguarda la mancanza di cartolonistica di Fondola Rosa, si prende sin da subito l'impegno di mandare un tecnico e ad effettuare un sopralluogo. In merito alla richiesta intitolata all'intitolazione di una strada, la proposta del consiglio verrà sottoposta da una speciale commissione della toponomastica per la sua fattibilità. Il presidente Greco ringrazia il dottor Verona per la sua disponibilità e sarà a sua cura per disporre a più presso l'elenco di in cui verranno specificati gli interventi più urgenti. Il consigliere Guarese comunica altresì nella postata alla consigliatura in un incontro con il sindaco era stata chiesta la fattibilità di mettere la cartolonistica laddove è assente a costi bassi in quanto trovandosi negli uffici del pallone aveva notato la presenza di diverse tabelle in disuso della toponomastica. Pertanto proponeva al sindaco di utilizzare queste cartelle. Il sindaco era rimasto entusiasta di questa proposta e ne aveva anche informato l'architetto ma purtroppo non si è mai ricevuta nessuna risposta. Il dottor Verona risponde che queste tabelle sono state tolte diversi mesi fa e in quanto erano vecchie è inutilizzabile. Il consigliere Scarlacca ringrazia il dottor Verona che sin da subito ha dato la sua disponibilità a risolvere le criticità più urgenti. Si trova d'accordo con gli interventi dei colleghi. Inoltre ricorda che nella nostra circoscrizione vi sono diversi monumenti di rilevanza storica e poi che mancano le tabelle turistiche. Molti turisti non sanno come raggiungerli. Pertanto chiede se si possono installare. Il dottor Verona risponde che per quanto riguarda l'installazione delle tabelle turistiche la competenza non è della toponomastica ma del settore turistico. Terminato questo intervento dottor Verona si scusa con il consiglio ma purtroppo deve abbandonare la videoconferenza in quanto deve presenziare in altre riunioni. Il presidente Greco lo ringrazia nuovamente sia per la sua disponibilità che per la sua presenza. Ribadisce che il consiglio invierà a più presto l'elenco delle priorità in modo che si possa lavorare in sinergia per risolvere le criticità toponomastiche presenti sul territorio. Alle ore 10.18 il dottor Verona saluta tutti i consiglieri ed esce dalla videoconferenza. Segue un ampio dibattito durante il quale alle 10.30 esce il consigliere Scarlatta e alle ore 10.40 esce il consigliere Marchese. Alle ore 10.43 il presidente Greco chiude la seduta di consiglio. Inizia la votazione, possiamo mettere in votazione verbale se non ci sono argomenti o qualcuno che voglia dire qualcosa. Per cui dico, diciamo che all'autore saluta di proseguire con... Presidente, volevo precisare una cosa. Io parlavo non di alcune tabelle ma di migliaia di tabelle della toponomastica posate al pallone, non alcune. C'è una grossa differenza. Grazie Presidente. Grazie consigliere Guaresi di questa accortezza. Se non c'è altro intervento, prego consigliere, prego dottoressa Lottà. Vuole dare seguito alla votazione così... Cardella? Favorevole. Guaresi? Favorevole. Marchese? Favorevole. Finita la votazione, presidente, gentilmente, mi dia due minuti. Grazie. Origlia? Favorevole. Savoca? Favorevole. Scarlatta? Favorevole, favorevole. Serio? Serio? Riuscito, serio. Riuscito, serio. Riuscito, serio, vai. Assente. Scusa. Favorevole, favorevole. Scusa? Favorevole. Greco, assente. Quindi approvata l'unanimità del presente, ore 10.50. assente. Assenti serio e greco. Grazie, dottoressa. Grazie a voi, consiglieri. Grazie a tutti. Io chiudo il consiglio. No, presidente, mi deve dare due minuti, per favore. Mi ha detto che esce quando finisce la votazione. No, 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 assolutamente. Allora, presidente, gentilmente faccia predisporre una nota urgentissima per quanto concerne rami tagliati in via padre Francesco Spoto, di fronte al civico 21 e per la precisione dietro la postazione decentrata. Molto pericolosi sia per i bambini che per i passanti. La faccia predisporre ai vigili urbani e a Villa e Giardini, presidente. È importantissimo, attenzione. Già gli uffici hanno ascoltato, hanno preso già... Via padre Francesco Spoto, di fronte al civico 21. Grazie a questa nota, grazie. Grazie, presidente. E poi, gentilmente, fate a me una vera copia. Grazie di cuore. Buona giornata. Grazie, arrivederci, arrivederci. Dottoressa Lotò, per me può chiudere il consiglio. Ci vi aggiorniamo a domani. Grazie a tutti.